Vi auguro il buongiorno con questo messaggio. L'Aquila. L'Aquila viene da est, da dove nasce il sole e ci sono nuovi inizi. Si eleva alta nel cielo, osserva i più piccoli dettagli con chiarezza senza perdere di vista il quadro d'insieme e fa il nido sulle alte montagne. Per l'Aquila non ci sono ostacoli, solo opportunità. Vi invita a salire, ad acquisire prospettiva in modo che possiate volare a fianco del grande spirito. Vi ritroverete intrappolati nella routine quotidiana e avete la sensazione di non sapere più dove andare e cosa fare. Avete perso determinazione? L'Aquila vi invita a fare un respiro profondo e ad allargare le ali. Quando è stata l'ultima volta che le avete aperte? L'Aquila vi ricorda che il vostro spirito è nato per elevarsi verso il cielo. Mentre riflettete sulle alternative chiedetevi voglio vivere in una gabbia per polli a riparo dalla vita in attesa dell'ora del pasto o voglio liberarmi come un'Aquila. Se la vostra risposta è la seconda dovete accogliere l'invito dell'Aquila e fare vostro il coraggio che vi aiuterà a scegliere la libertà. È ora di guardare attraverso gli occhi dell'Aquila. Fate che la vostra visione del generale e del particolare sia come un laser e stabilite le vostre priorità. Qual è il vostro scopo di vita? Siete nati per dare la scalata al successo economico o sociale? O per diventare una persona migliore? Guarire il vostro cuore e far crescere la vostra vera essenza? Qual è la vostra missione divina qui sulla terra? Basta scuse. Ovvio che non abbiate abbastanza tempo, abbastanza soldi, abbastanza possibilità di dormire. Tuttavia il momento di volare verso il vostro obiettivo è ora. Se rinviate tradite voi stessi. Guardate attraverso gli occhi dell'Aquila e considerate ogni ostacolo un'opportunità. Là dove fissate il vostro obiettivo e dove arriverete liberatevi e vivete il vostro destino più elevato. Dunque volate. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.